Allora, qui sta scoppiando veramente un casino clamoroso, un casino veramente clamoroso. Allora, è uscita la notizia negli ultimi ore, io veramente, siamo veramente al delirio. Premessa, vedevo raccontare una cosa prima della notizia. Io stamattina sono uscito per alcune commissioni e nel frattempo, nel tempo libero, tra virgolette, dalle commissioni e dagli eventi, insomma dagli incontri, io ho girato, ho fatto dei video. Tra cui, avevo girato anche un video di questo tipo qui, su questo personaggio che adesso vi presento, che probabilmente io farò uscire nei prossimi giorni. Però devo parlarvi adesso, stasera, di questo, perché veramente c'è una notizia clamorosa per quanto riguarda la curva Inter. Quindi è scoppiato uno scandalo pazzesco, anche perché la polizia e i carabinieri, in particolar modo le forze dell'ordine, hanno collaborato e hanno scoperto una cosa clamorosa. Quindi c'è l'intervento appunto della polizia e del G. Quindi tra poco ne parliamo, perché la polizia ha parlato. Prima di iniziare tre cose molto semplici, iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che però se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, praticamente non vi arrivano mai i video. Questa è una cosa molto importante. Vi ricordo inoltre che, insomma, escono contenuti nuovi tutti i giorni, quindi se volete, ragazzi, fate questa cosa che è molto importante. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, vi ricordate quando io qualche giorno fa vi avevo detto ragazzi, è stato trovato un arsenale in un magazzino di Milano. Cioè c'è un magazzino fuori Milano all'interno del quale è stato trovato un arsenale e altri prodotti, insomma, di altro tipo. Ma la cosa interessante è che sono stati trovati appunto delle armi, sono stati trovati delle armi molto, molto gravi, perché ci sono degli esplosivi, ci sono delle pistole, ci sono delle armi comunque assolutamente inaccettabili che possano essere detenute da persone civili da questo punto di vista. Il GIP di Milano, oggi pomeriggio, nel momento in cui giro proprio un quarto d'ora fa praticamente, ha espresso una comunicazione ufficiale per quanto riguarda gli inquirenti. Ha detto che, dopo alcune verifiche, l'arsenale appartiene a ultrainterista arrestato, cioè il signor Cristian Ferrario, e al capo della Curva Nord Beretta. Ora, probabilmente il nome di Ferrario non vi dice molto, ma perché questo video viene dopo quello che io ho girato questa mattina, cioè io avrei dovuto pubblicare quello di prima e poi avrei dovuto pubblicare questo. Purtroppo la notizia ci ha colto tutti di sorpresa, quindi ho dovuto mettermi subito al lavoro per questo video. Vi spiego quindi chi è Ferrario. Chi è il signor Cristian Ferrario? È stato arrestato, adesso lui è ai domiciliari, quindi si trova nella sua abitazione appunto di Milano, perché è stato rilasciato ed è stato messo ai domiciliari. Cristian Ferrario è un magazziniere, ed è ovviamente il responsabile del merchandising Inter. Quindi questo signore lavorava con i prodotti ufficiali dell'Inter ed era uno dei magazzinieri di fiducia della società in questione. Ferrario guadagna 700.000 euro all'anno, ma questi 700.000 euro all'anno non sappiamo da dove vengono. Cioè, lui ha fatturato lo scorso anno 700.000 euro, che mi sembra uno stipendio e un ingaggio per un magazziniere, veramente, insomma, siamo al delirio. Io non ho mai sentito un magazziniere, lavoro tra l'altro onestissimo e assolutamente da me rispettato come la maggior parte e come tutti i lavori, secondo me, onesti, ma non ho mai sentito io un magazziniere nella mia vita che si guadagna 700.000 euro all'anno. Quindi il signor Ferrario deve spiegarci un bel po' di cose. Quando l'altro giorno è stato trovato questo magazzino con dentro l'arsenale, io ve l'avevo detto nel video, vedi che Beretta sta a parlare. Ve l'avevo detto anche nei giorni scorsi quando avevo parlato di Beretta. Ragazzi, vedete che Beretta parlerà. Perché Beretta adesso parla o è la fine. Se gira, se gira, se dice dalle parti mie, è la fine. Perché comunque, dove si volta, si volta. Lui ha problemi. Perché se non parla, questo gli danno del gastolo per tutto quello che ha fatto, anche con Bellocco, tutto quello che è successo, se parla e non è protetto, finisce ancora male, eh. Finisce malissimo. Quindi lui adesso è costretto a parlare comunque e a farsi aiutare dalla legge. Dal momento in cui ha parlato Beretta, si è trovato il magazzino con l'arsenale. Giorno dopo. Giorno prima, giorno dopo, si è trovato il magazzino con l'arsenale. Ora era da capire chi apparteneva a quest'arsenale. Perché praticamente tutti hanno negato. Hanno detto no, ma noi non sappiamo niente, noi non avevamo idea, eccetera, eccetera. In realtà loro hanno attestato il fatto che praticamente l'Ultra Ferrario e l'Ultra Beretta sono praticamente entrambi i proprietari di questo magazzino. Quindi entrambi nascondevano delle armi veramente molto pesanti all'interno appunto di questo magazzino. La domanda è che cosa ci fanno due Ultrati, cui uno che fa il magazziniere e si occupa del merchandising e l'altro che è un capo ultra con tutte quelle armi. Cioè, a casa stavo a parlare, voglio dire, di... Allora, già è grave che un civile abbia delle armi da parte. Perché secondo me è grave, a meno che tu non abbia un porto d'armi. Cioè, lo reputo veramente una cosa abbastanza particolare. Ma comunque, a prescindere da tutto, che cosa ci fanno due persone apparentemente normali, apparentemente comuni, con gli esplosivi. Cioè, dentro il magazzino trovato a Milano c'è un arsenale, vuol dire che ci stanno chili e chili di esplosivi. C'è un sacco di armi diverse, è un sacco di roba per far male alla gente, è un sacco di roba. Cioè, quella roba lì veniva utilizzata molto probabilmente da alcuni esponenti della Curva Nord per minacciare, per, insomma, fare delle attività comunque illecite. E quindi qui torniamo poi al discorso che noi facciamo anche molto spesso all'interno del contesto Inter. cioè, per quale motivo all'interno di una situazione del genere si fa finta di non vedere. Cioè, che io, che l'Inter non sapesse le cose e che l'Inter non conoscesse l'esistenza, ad esempio, di un rapporto fra Beretta e questo tipo, nessuno ci crede. Perché Beretta è uno degli ultra più vicini ai dirigenti dell'Inter. Quindi molto probabilmente l'Inter conosceva le attività di Beretta, sapeva cosa faceva Beretta e conosceva perfettamente quello che avveniva anche per quanto riguarda il magazzino. Ma io mi faccio una domanda e dico, è normale che all'interno di una curva di una squadra di calcio esistano soggetti del genere? Cioè, se fosse trattato da un'altra squadra già l'avreste presa? Cioè, qui ci sarebbe stato veramente il casino attuale. Io bloccherei San Siro. Io bloccherei il tifo dell'Inter. Mi dispiace dirlo, ma dopo tutto quello che sta uscendo fuori io non mi fido neanche più dei padri di famiglia che vanno allo Stato o quei bambini perché tra quei padri di famiglia ci potrebbero altri criminali a questo punto. A questo punto se io mi devo preoccupare anche di un magazziniere vi faccio un esempio che è una persona apparentemente comune che nella vita fa il suo lavoro e poi si scopre che questo fa gli imbrogli sui prodotti e poi fa gli imbrogli per quanto riguarda gli esplosivi. Cioè, se io mi devo preoccupare anche di un magazziniere vuol dire che qui tutti sono sospettati. Tutti. Io bloccherei innanzitutto il tifo organizzato all'Inter almeno per questa stagione. Almeno innanzitutto per capire chi è pulito e chi no. Mi dispiace per i tifosi che non c'entrano niente. Mi dispiace per la curva per gli elementi della curva che non c'entrano niente perché non tutti c'entrano. Assolutamente io non dico questo. Però, siccome si è creata la situazione intanto gli blocchi il tifo organizzato e mettiamo da parte questa cosa. E poi, è ora di capire un pochino se l'Inter sapesse oppure no perché secondo me sapeva. Secondo me sapeva. E con gli arresti che ci sono stati di Beretta prima e di Ferrario poi all'interno dei contenuti. Cioè che l'Inter è popolata da gente di questo tipo. Punto. Punto. Due arresti importanti ma poi ce ne sono stati insomma eccetera eccetera. Quindi adesso di che cosa si sta parlando? Ma quando mai si è visto all'interno di una tifoseria calcistica di un tracco gli arsenali? Ma dove siamo? Cioè siamo non lo so siamo in guerra ragazzi che servono gli arsenali oppure siamo persone tranquilli, civili? Cioè secondo me stiamo veramente esagerando io penso che adesso bisogna comunque andare ad avere cioè ad avere un'idea delle cose perché che l'Inter non sapesse chi era sta gente io non ci credo punto lo dobbiamo finire ogni volta perché l'Inter non sapeva perché l'Inter non poteva sapere perché l'Inter non poteva sapere ha qualche problema l'Inter che non poteva sapere ma come? Li conosceva perfettamente tutti ancora parliamo dell'Inter c'è gente che ancora parla dell'Inter ancora nonostante tutto quello che sta succedendo tu parli dell'Inter che non sa? stai scherzando spero cioè nel senso stai dicendo una cavolata giusto per apparire perché altrimenti non so come classificarti più di quello che più di quello che sta succedendo le succede ragazzi cioè più di quello che state vedendo vi dovete convincere che c'è qualcosa che non va è chiaro che ci sia qualcosa che non va vi rendete conto che si sta parlando di persone sporche si sta parlando di gente che quando tu gli fai qualcosa per dire che tu che stanno parlando qualcuno questi prendono le armi e agiscono ti sembra normale? ti sembra un atteggiamento normale? a me non sembra un atteggiamento normale comunque io veramente faccio fatica di faccio veramente fatica faccio veramente molta fatica a capire come si possa continuare a ignorare questo problema per quanto riguarda la situazione inter cioè come si fa come fa la legge a non prendere in mano la situazione a non capire come si fa a non capire questa situazione è una cosa fuori dal normale cioè siamo al delirio ti ripeto fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi va bene ragazzi fatemi sapere i vostri commenti quali sono le vostre idee non capire